Buongiorno, sono Alberto dell'assistenza tecnica osculata. Oggi vediamo insieme come mantenere in buone condizioni i componenti in acciaio delle nostre barche. Per conservare l'aspetto del tempo l'acciaio necessita di cure regolari. Questo riduce al minimo la possibilità di contaminazione della superficie da agenti esterni. Se si vuole mantenere un buon livello di pulizia occorre trattare con frequenza le superfici metalliche. E buona pratica a fine attività o a rientro in porto risciacquare con acqua dolce la coperta con particolare attenzione alla ferramenta. Il nostro detergente Inox Cleaner 65 250 00 è il prodotto ideale per la rimozione dello sporco sull'acciaio. Dopo la pulizia delle superfici è necessario risciacquare ancora con acqua dolce e nei limiti del possibile asciugare a fondo.